Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Come si sa, Albano e Romina sono stati sposati per tantissimi anni. La loro storia è terminata ormai da tanto tempo, anche se i due pare siano rimasti in rapporti piuttosto buoni. Il leone di Cellino da diversi anni sta ormai con Loredana Lecciso con la quale ha messo al mondo altri due figli, quali Yasmin e Albano GR. Dalle parti di Cellino San Marco, e non solo, si dice che tra Romina e Loredana non scorra assolutamente un buon rapporto, tutt'altro. Nonostante tutto Albano nell'ultimo periodo si è molto avvicinato a Romina, almeno a livello professionale, in quanto i due hanno cominciato una collaborazione. Nulla di più se non grande rispetto Vigi ad oggi tra i due ex coniugi. A Verissimo, dinanzi a Silvia Toffanin, Albano ha affermato come oggi Romina per lui sia come una sorella. Al momento quindi l'amore rimane solo un in Albano, ovvero quello per Loredana Lecciso. Con Romina il cantante pugliese ha messo al mondo quattro figli. La famiglia Carrisian oggi vive stabilmente nella grande tenuta di Cellino San Marco, ma sembra che Loredana non abbia gradito particolarmente la scelta di Romina di vivere nello stesso paese, dove Romina è molto amata dalla gente del posto. Vedremo che cosa succederà in futuro.